Il regista hollywoodiano Steven Spielberg ha ricevuto l'orso d'oro alla carriera nell'occasione della Berlinale 2023. Un momento per il pubblico tedesco per rivedere molti dei suoi capolavori. Ai giovani dico fate attenzione alla storia e ai dettagli, esordisce il grande regista. L'incontro è stato anche l'occasione per raccontare e raccontarsi. Non credo nulla sia cambiato in me da quando ho iniziato a fare il regista, dice Spielberg. Sento ancora dentro di me il potere della cinema che mi trascina e che so trascina molti miei colleghi. Sento lo stesso livello di incredibile eccitazione quando trovo l'idea per un nuovo film. Un'eccitazione che nella mia vita è stata superata solo da quella per la nascita dei miei bambini. È stato durante la pandemia. Racconta che ha pensato fosse arrivato il momento per raccontare la storia della sua famiglia, quella di The Fablemans. È stato il film più difficile dal punto di vista emotivo che abbia mai girato. Prima lo era stato Schindler List e quello più duro dal punto di vista fisico Lo Squalo. E molte volte sul set sono stato travolto dalle emozioni. Ai giovani registi o aspiranti lui non direbbe certo quello che ha detto nel film Harrison Ford. And now get the fuck out of here. Il consiglio che do di solito è di fare grande attenzione alla storia che si racconta e quella che attira l'attenzione, non le inquadrature. Consiglio ai registi di scrivere e di far coppia con bravi sceneggiatori e di fare attenzione ai dettagli mentre di non preoccuparsi delle cose più grandi che si risolvono da sole perché un film è la somma di tutti i dettagli che lo compongono.